bene ragazzi ciao amici di fish orlandia benvenuti in un nuovo video siamo arrivati alla parte 2 dei best seller 2023 per quanto riguarda i termini di vendita di fish orlandia per quanto riguarda le esche artificiali non mi voglio dilungare non voglio ripetere le motivazioni per cui questa serie mi piace molto andate a vedere la parte 1 di questa serie ma andate a vedere anche i best seller sulle canne sui muninelli che sono già usciti giorni fa sul nostro canale youtube in questa parte 2 vi voglio parlare di altre tecniche perché abbiamo dovuto dividere il mondo degli artificiali un po per tecniche perché altrimenti ne usciva un video di oltre un'ora voglio parlarvi oggi quindi dell'aging vi voglio parlare del verticale dalla barca nell'ultima ritrovata negli ultimi anni negli ultimi due anni che sono le tecniche verticali da usare dalla barca delle gomme in particolar modo vi voglio parlare del taco aging la tecnica scusate che prevede una minima attrezzatura ma che ci fa divertire anche lì pescando i polpi dalla barca e o anche da terra poi questo faremo un piccolo inciso non ci possiamo dimenticare sempre della pesca dalla barca quello che è il tataki sempre per il calamaro e non ci possiamo altresì dimenticare di quello che può essere la pesca da terra la pesca dalla barca la pesca ovunque anche in acqua dolce con i mitici jig quindi con i piombati così comunemente chiamati piombati partiamo subito da legging best seller ce ne sono tanti perché ormai legging si apre in diverse sottofamiglie no il vero aging però è uno c'è come movimento e ci sono però non solo un best seller per noi perché dipende molto dalla zona d'italia perché dipende molto dalla tipologia del fondo se lo facciamo dalla spiaggia se lo facciamo dalla scogliera rimane indiscutibilmente per noi di fisher randy al più venduto leggi quindi e g in termine esca per legging leggi della yamashita in tutte le sue forme non vi ho portato neanche un search se non vi ho portato neanche l'ultimo uscito quindi quello con le biglie o con le cose particolari vi ho portato un artificiale della yamashita che rimane un best seller in assoluto parta partendo dalla nuova serie fra virgolette economica che economica non è neanche più di tanto che si chiama f non è più la r ma si chiama f fino ad arrivare al search che è il nuovo diciamo sound con qualche particolarità tecnica veramente ricercata rimane comunque sempre il best seller a ruota a ruota segue una azienda che è uscita a settembre con un sacco di novità nel mondo dell'aging ve l'ho già detto un sacco di volte che è la jatsui riesce a superare la yamashita in termini di numeri probabilmente in termini di numeri sì a livello di numeri di prodotto a livello di numeri di fatturato permettetemi questa parolaccia probabilmente no perché il costo è inferiore però devo dire ragazzi che da settembre a oggi sono arrivate queste esche e stiamo vendendo veramente tonnellate di questa roba della jatsui ci sono più di più esche ma quelle che hanno fatto scalpore sono la rubber che ha vinto anche un premio fx 2022 credo o 2023 perdonatemi perché è un artificiale particolarmente bilanciato con mille sfaccettature di colori a questo a pelle d'ocche la chiamo così questi puntini di silicone sopra che non solo rendono particolare l'estetica e la 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 al tatto quest'esca ma anche nella funzionalità nella sua funzione poi vedremo anche lì in un futuro alla recensione credo di non averla ancora fatta rimane un best seller 2023 anche in termini di novità questo che tutti conoscete come un vtd come un walking the dog che si utilizza normalmente per la pesca a spinning in superficie bene la jatsui l'ho fatto con le ancorette dietro cambiandone i pesi cambiandone il bilanciamento il movimento ragazzi miei dovete sapere che questo è un artificiale tra i più venduti oggi un po per la novità alcuni di voi lo vogliono provare assolutamente ma devo dire che assolutamente rimane uno tra i più venduti in assoluto per la pesca aging negli ultimi mesi sempre quindi lo voglio mettere nei best seller chi ama pescare a aging e crede che l'artificiale da aging deve essere naturale per forma per movimento per colorazione non può mancare di nuovo un'azienda che è arrivata quest'anno prepotentemente sul nostro mercato anche se noi ci collaboriamo già da un paio d'anni che è questa qua che è la little jack con la reflector un artificiale da aging che veramente ha fatto e dice la sua in tutte le sono arrivate le colorazioni nuove sono arrivate le misurazioni nuove quindi diciamo che non si può permettere di annoverarsi come un best seller tra i più venduti ma assolutamente un artificiale vi dico la verità da avere metto anche un'altra novità che non voglio far mancare visto che abbiamo fatto una panoramica di tutti gli artificiali praticamente da aging che teniamo a parte alcune cose economiche che funzionano molto bene che è la dtd con le balistiche ce ne sono di due tipologie diverse in colorazioni diverse sotto famiglie questa è una delle esche molto molto interessanti che è diventato un best seller 2022 alla fine e rimane un best seller perché è un'esca particolare che ha delle caratteristiche tecniche effettivamente quasi ineguagliabili anche se qualcuno ha provato comunque a fare qualcosa di interessante a un prezzo inferiore vanno bene però eccetera per chi pesca concludendo il calamaro o la seppia chiaramente non solo a aging ma anche dalla barca e quindi anche utilizzando un piombo o anche da terra utilizzando un piombo il best seller è quella che prima era la totanara degli anni vent'anni fa che è questa qua che è della yuzuri questo sut perché è un artificiale che ha il piombo interno e bilanciato in acqua si utilizza con un piombo rimane anche se jatsu yamashita escono con il loro sut questo per noi a genova è un must e vedo che anche online piace tantissimo questo della yuzuri colorazioni di una volta il blu il verde il rosso l'arancio il rosa fine dei giochi ma è un artificiale che deve per forza essere menzionato in questo video arriviamo velocemente al tataki tataki qua facciamo presto perché volento o no lente il costo non costo rigide morbidi di legno di balsa di cemento quello che volete gli artificiali da tataki che fischerlandia hanno avvera fra i best seller e li abbiamo tutti gli altri ce ne li abbiamo gli abbiamo tutti sono questi della yamashita signori miei questo è un qualche cosa che si vende sempre comunque veramente a tutti per qualsiasi cosa vi ho portato l'opai classica della Yamashita ma vi ho voluto portare anche perché nei best seller non pensavo il set best seller di opai della Yamashita piace colorazioni scelte e impostate da Yamashita devo dire che funzionano bene hanno un rapporto qualità prezzo è una parolaccia dire in questo caso rapporto qualità prezzo non costano poco però ragazzi i terminali funzionano bene moschettone funzionano bene le esche funzionano bene non c'è niente da dire di cosa parliamo adesso saltiamo dal calamaro al polpo qua sul discorso polpo devo parlarvi di un'azienda che è daiva che è arrivata per prima rispetto a tutte le altre nel 2022 abbiamo fatto un sacco di prove l'abbiamo provati quasi un anno senza poter dire niente per contratto siamo arrivati a oggi ad avere una gamma completa di tutta quella che le attrezzature le cani i mulinelli anche i treciati se vogliamo le girelle preposte i moschiettoni preposti i terminali preposti e due tipi di esche ma quella che vince il best seller è questa signori miei il madaku questo gambero con le due parpellette con l'aria dentro ha un movimento una cosa veramente imbarazzante devo dire questo perché competitors reali in questo momento nel mondo taco ce ne sono ma non ce ne sono con questa tipologia di esca cioè che un'azienda che mi porta sul piatto che ci fa vedere e ci porta sul piatto tutta una serie di cose dedicate a leggi qui al taco e gi scusate quindi questo è il madaku il best seller 2023 con dei numeri veramente da fantascienza rimaniamo un sacco un attimo per dalla pesca sulla pesca dalla barca perché poi voglio parlarvi di un esca must e mi lungherò un goccino in più esca di gomma tecnica in verticale dalla barca che prende forma due o tre anni fa perché qualcuno lo utilizzava sono uscite tante tipologie di gomme tante tipologie di test eccetera eccetera per quanto riguarda noi il crazy squid di jatsui che è questa che questo calamarone con la testa è piombata possibilmente possibile comprarlo in diverse e piombature dai 120 ai 200 grammi eccetera è possibile comprarlo in tante colorazioni diverse possibile comprare gli assist dedicati a questi fatti dalla jatsui appositamente per aggiungere due ami portanti su questa esca questo è il best seller per quanto riguarda le gomme prende il posto del black mino sempre molto usato nella misura 4 5 6 che prima era l'unico che c'era sul mercato quando è arrivato questo questo ha preso il posto esche e pesche chiaramente molto selettive devo dire la verità però in quella piccola nicchia ve li devo commentare in questo senso perché sono dei best seller ora io vi faccio vedere quelli che sono i un mondo di artificiali e vi voglio fare vedere quanto a volte le novità possono possono avere trovare adesioni nel nostro mondo nel nostro mercato ma vi voglio fare vedere anche quando la qualità di un prodotto uscito anni fa mantiene comunque il suo titolo di vendite vi voglio parlare del dello short jigging che poi in realtà è un light short jigging vi voglio parlare di un'esca che tutti abbiamo chi fa spinning in generale nella cassetta della pesca e vi voglio parlare anche di chi pesca dalla barca in verticale o a spinning quindi nelle due versioni chi è oggi che non ha un artificiale della palms che sono questi due lo smilzo e il the ducks il cicciollo menzionati da noi anni fa ormai sul nostro canale avete dato voi che siete il nostro la nostra community la nostra family avete dato voi il nome a questi due artificiali rimangono ancora oggi indiscutibilmente i più venduti ne sono usciti un sacco di un sacco di aziende loro stessi hanno fatto uscire degli artificiali stando attenti a non cambiare questi due perché probabilmente lo sanno che hanno in mano un best seller sono usciti delle nuove colorazioni assolutamente molto interessanti da avere secondo il mio punto di vista con le grammature che partono dai 20 grammi arrivano fino ai 60 grammi in alcuni di questi oggetti posso dire che è il jig più venduto quasi da sempre da quando è uscito questo artificiale il mucio lucir forse di maria prendeva al posto di questo qualche anno fa è stato soppiantato è stato schiacciato da questi due artificiali che hanno una molteplice funzionalità un molteplice utilizzo proprio per questo che vengono venduti perché non vengono venduti in numero solo a chi fa una determinata tipologia di spinning come ad esempio lo spinning alla spigola eccetera eccetera ma vengono venduti a chi fa light shore jigging a chi fa spinning e ce l'ha sempre in cassetta a chi pesca dalla barca in verticale si vuole divertire senza selezionare troppo il pesce e a chi fa spinning ad esempio sulle mangianze non ci dimentichiamo che in questi ultimi anni soprattutto nell'ultimo anno la tecnica verticale su quelli che sono ad esempio i persici pescandoli dalla barca in verticale ha preso forma con che cosa con delle artificiali leggermente più piccoli e più leggeri che si usano anche in mare anche qua vedete com'è come può cambiare insieme e essere però con la stessa artificiale da utilizzare ritorna little jack e little jack ha questa mania il fatto di fare degli artificiali realisticamente parlando veramente da fantascienza e devo dire che fa una serie di artificiali di piombo che sono gli addict che partono dallo 0 l'1 il 2 il 3 ma quello che da noi è il best seller più venduto è l'addict type 06 che è questo con questa forma particolare addirittura il distributore italiano che saluto e ringrazio come al solito ci porta a nostro favore degli artificiali così anche da 10 grammi cosa che non era assolutamente diciamo pensato perché sfiorano il medium light spinning non sono proprio da light come i micro gig anche se little jack ha i micro addict quindi fantastici anche quelli ma diciamo che il best seller di tutta la serie pur vendendoli più o meno tutti in maniera diciamo paritaria l'addict type 06 si aggiudica il premio per quanto riguarda l'artificiale di piombo con queste caratteristiche di realismo che gli altri assolutamente non hanno vi ricordo anche che in tutte le esche che vi ho fatto vedere in questo video e in tutte le esche che ho fatto vedere nella prima parte se non l'avete visto andate qua sopra a vederlo ve lo linko qua sopra ve l'ho lasciato linkato qua sopra è importante in un'esca e in un best seller avere anche un allestimento di qualità quindi quando io vi ho fatto vedere queste esche vi ricordo che tutto ciò che correda queste esche sono già tutte pronte per pescare sono di altissima qualità partendo dal tipo di amo che normalmente utilizzano marche blasonatissime arrivando a quelli che sono i dacron utilizzati per gli assist arrivando alle ancorette arrivando alle gomme i siliconi tutto questo fa sì che un'esca possa dichiararsi un best seller quindi un top di gamma a questo punto ragazzi anche questa parte 2 è terminata sulle esche ci siamo portati a casa questi best seller in queste due parti vi do appuntamento però al prossimo video dei best seller per quanto riguarda gli accessori e le buffeterie e ancora in ultimo andrà nel 2024 ma parleremo comunque dei best seller 2023 in cui voglio parlare molto volentieri di quella che è l'elettronica che sempre di più oggi sulle nostre imbarcazioni prende forma noi sapete come siamo rivenditori e se facciamo anche assistenza ufficiale per alcune note aziende di motore non abbiamo più solo un'azienda ma ne abbiamo due in questo caso e vi voglio parlare anche delle strumentazioni elettroniche perché anche lì ci sono dei best seller che fanno una certa un certo numero nel mondo delle vendite sempre chiaramente vi parlo di fisherlandia a questo punto ragazzi grazie per essere stati con noi vi chiedo come sempre di seguirci sui nostri social iscrivervi al canale e attivare le notifiche per noi è sempre molto importante sono tre cose non vi chiedo mai niente quindi fatelo grazie a tutti veramente a questo punto io i best seller 2023 esche artificiali parte 2 vi salutiamo e come sempre vi diciamo noi che la pesca sia con voi grazie a tutti grazie a tutti